Il tema della fiducia è un tema assolutamente rilevante nell'economia capitalistica e in particolar modo nella finanza perché sta alla base della relazione che si intrattiene tra gli intermediari e i clienti, intesi come risparmiatori, ma anche tra gli intermediari e i clienti professionari, cioè le banche. Il tema della fiducia è centrale perché consente di costruire delle relazioni di lungo termine su basi fiduciarie, su elementi chiave per costruire nella catena del valore, quel valore aggiunto che alla fine deve evidentemente essere a beneficio del risparmiatore. Come si costruisce questa fiducia tra cliente e banca? Anche tra SGR e banca la ricetta è sempre la stessa. I comportamenti devono essere comportamenti virtuosi, portati all'interesse generale. Bisogna in qualche modo investire molto tempo e molte risorse in quelli che sono i documenti che illustrano in modo chiaro ai clienti quello di cui si sta parlando. Quindi nel caso si parli di prodotti, nel caso si parli di gestioni patrimoniali, nel caso si parli di gestioni a tutto tondo, avere tutte le rende contazioni che non seguono esclusivamente quelle che sono le normative che riguardano questo tipo di documenti, ma che facilitino la comunicazione tra non addetti ai lavori, cioè risparmiatori e addetti ai lavori. Ma anche tra addetti ai lavori sappiamo che per esempio una società di gestione del risparmio, che è una società evidentemente di prodotto con forti contenuti specialistici, deve cercare di trasmettere tutto quello che è il proprio know-how alla banca che utilizza questi prodotti, quindi per esempio attraverso rapporti continuativi con i gestori, con le strutture commerciali, perché evidentemente poi questo serve al private banker nella sua relazione a 360 gradi che evidentemente non riguarda esclusivamente prodotti di natura finanziaria con il cliente finale. Beh, la relazione di lungo termine è l'aspetto più rilevante in una relazione commerciale di qualsiasi tipo, in modo particolare quando si parla di prodotti che sono immateriali, spesso ci si dimentica sempre che quando si parla di gestione del risparmio si sta parlando di qualcosa che non si può toccare, che quindi difficilmente diciamo non si può valutare in qualche modo guardandolo o toccandolo, quindi bisogna costruire relazioni di lungo termine proprio perché bisogna fornire in modo trasparente, dicevamo, tutte le informazioni che sono necessarie per questo tipo di attività, perché certamente ognuno ha un ruolo, il ruolo sicuramente più difficile è quello del private banker che deve tradurre dei contenuti tecnici che spesso appunto intervengono nella relazione tra banca e società di gestione al cliente finale che non necessariamente è un tecnico e che quindi tutto quello che è il know-how della società di gestione deve essere messo a disposizione della società, della banca, della banca private e del private banker proprio per trasformare queste relazioni che in qualche modo intervengono coi clienti in relazioni durature, in relazioni che in cui tutti gli elementi virtuosi di questo settore possono emergere con forza. Per fare questo sono necessari numerosissimi investimenti da un punto di vista di comunicazione, molto spesso ci si dimentica questo aspetto, comunicare vuol dire riuscire a trasferire il valore e la percezione del valore al cliente finale, investimenti di natura commerciale e investimenti in termini di know-how, perché certamente mantenere in qualche modo la forza produttiva al passo con quelle che sono le innovazioni sui mercati finanziari è sicuramente uno degli aspetti più importanti per una società di gestione del risparmio e certamente questi investimenti sono talmente rilevanti per cui per una società di gestione è molto importante costruire relazioni di lungo termine con i propri distributori.